A Piazza Sanità si festeggia San Vincenzo Ferrer, detto Omunacone, uno dei patroni di Napoli particolarmente amato nel quartiere. La sua statua di legno dorato è custodita nella storica basilica di Santa Maria della Sanità. Una grande festa popolare culminata nel tradizionale saluto del santo alla piazza, che quest'anno si è arricchita di un singolare omaggio artistico. Sulla fiancata della chiesa il bellissimo murale dell'artista Francisco Bosoletti che raffigura una giovane coppia di innamorati napoletani che nell'amore trovano la forza per superare la malattia e resistere alla violenza. Mi piace Napoli. Mi piace venire. Certo, è bellissimo. Bene, ci vediamo là, se vuoi. Quando un po' della strada, dello che si vede a Napoli, sulla strada, della gente, tutto. Anche una storia particolare di un'amica. Un po' mischiato tutto, un po' di sentimento posto lì. Un po' lo che si vive nella strada, soprattutto. Resistiamo. Questo il titolo del murale sarà presto consegnato al quartiere col suo carico di tulipani, fiore simbolo dell'artista argentino che simboleggia i valori di comunità contro i disvalori del denaro e delle cose materiali. Bellissimo questo artista argentino giovanissimo che si unisce all'altra opera che è stata inaugurata qualche settimana fa. Portare l'arte nelle strade, portare la passione, ma anche questo spirito libero internazionale di Napoli che si apre agli artisti non solo napoletani ma di altre parti nel mondo. Poi è bellissimo il messaggio. Resistiamo. Amore e resistenza, che sono due tratti costitutivi della nostra città. Una città che vuole amare, che vuole accogliere, che vuole sorridere anche tra tante sofferenze. È una città che resiste.